A DENDI STRETTI Dopo 14 anni ci ritroviamo noi, quelli del quartiere, i miei amici del quartiere, dell'attività, a vedere uno dei nostri gruppi preferiti che allora cantavamo sempre e che continuiamo tutt'oggi a cantare. La sorpresa sta nel fatto che non solo ci sono i LITFU, c'è anche Piero! Chi è questo? Me la fai la faccia da Piero? Prima guardia!